Ciao, sono Greta Cattaneo, laureata presso l'Università dell'Insubria in Fisioterapia. Oggi mi occupo di riabilitazione di pazienti degenti in fase acuta presso un ospedale privato di Londra. Grazie alle competenze teoretiche e pratiche acquisite durante la laurea triennale, ho potuto costruire un percorso ricco di esperienze a livello nazionale ed internazionale, nonché mi ha dato la possibilità di acquisire anche una laurea di secondo livello in Italia e un master all'estero. Il primo step di questo mio percorso è stato fondamentale nella realizzazione del mio presente lavorativo.